buongiorno ragazzi e buon anno nuovamente questo video lo faccio per dare così un consiglio in realtà ho trovato due metodi io uno un po più complicato ve lo farò vedere in maniera molto sommaria e l'altro proprio alla portata di tutti il primo un po complicato dico complicato perché bisogna adesso vi farò vedere andare a lavorare certe parti del braccio e non tutti chi non ha un po di dimestichezza col modellismo col fai da te potrebbe essere in grado di riuscirci quindi non voglio assolutamente che possiate rovinare il vostro modello sto parlando del braccio del gomito chiedo scusa del gomito che molti di voi me compreso hanno trovato diciamo sicuramente è stata fatta una una progettazione abbastanza sommaria insomma perché come tutti abbiamo appurato bastava fare dei denti come il movimento del ginocchio il problema non ci sarebbe stato comunque bando adesso alle troppe chiacchiere allora il primo metodo che ho fatto è questo è il gomito smontato ovviamente è stato quello ripeto questo è sottolineo questo è il più complesso lo dico per chi volesse sfruttare le rondelle in teflon o plastica io ho grattato le rondelle l'ho dovute a parte che vanno grattate comunque con una carta 60 un 80 quella che avete per renderle ruvide perché così ha più attrito diciamo verso le parti che andranno anche grattate della vernice cioè per chi volesse fare questo metodo grattare anche qua cioè andare a togliere della vernice qui non togliere tutta e grattarla perché così meno è liscia chiaramente più c'è attrito perché ho dovuto rimpicciolire cioè rimpicciolire fare più sottile rendere più sottile questa perché poi ripeto questo è il più complicato ragazzi poi arriva quello veramente semplice ve li dico tutte e due perché per chi volesse cimentarsi l'uno nell'altro sceglie poi lui con un cutter il taglierino questo qua io ho usato quello con la lama più grande adesso vi faccio vedere questo ho fatto dei dischetti così che stessero chiaramente all'interno qua ok ecco perché ho dovuto assottigliare un po' queste rondelle perché devi considerare che ce ne vanno quattro uno due qua e poi altri due al contrario ok per cui tutte e quattro tutte e due da una parte all'altra fanno spessore dovete andare a togliere un po' di questa e poi vi accorgerete che il braccio è ovvio che non grattatevi troppo e io questi qua per esempio li ho fatti diventare ve lo dico subito col 1.71 poco più di un millimetro e mezzo questi col buco piccolo questi col buco un po' più grande non ho grattato molto l'ho soltanto fatto l'ho soltanto fatto diventare un po' ruvidi sono 1.26 1.27 col calibro un millimetro e 2 scarso millimetro 3 ora vediamo alla cosa più semplice togliamo via queste togliamo via il tappo guardate qua la risoluzione al problema gomito queste sono delle rondelle per gas le ho prese a blico a me mi sembra che lo pagate un euro forse neanche da un quarto sono dieci pezzi comunque le misuriamo col calibro non per complicare la vita ma per aiutarvi un po' comunque sappiate che lo faccio rivedere questa è la misura un quarto il calibro a zero andiamo a vedere lo spessore 2 mm 2.02 mm circonferenza esterna 11 cm e 1 cm e circonferenza interna 6 e 25 ok detto questo guardate la semplicità le rondelle queste le fate volare via ovviamente non le buttate ma non servono in questo caso le togliete proprio mettete uno calzate dentro due non ha importanza questa facciata rispetto all'altra cioè così o metterla così e ragazzi non serve tanto comunque ha tritto da tutte e due le parti poi fate la stessa cosa dalle altre parti questa la fate entrare non guardate che balla non importa perché poi questo perno poi la blocca comunque poi farete delle prove se non vi garba tornate indietro mentre invece con le rondelle il metodo iniziale è chiaro che non potete tornare indietro quindi vedete voi poi dopo aver fatto questo semplicemente ricordatevi le rondelle sono state messe via non servono più allora questo vediamo se mi ricordo dovrebbe essere così e questo così perfetto ok chiudiamo e poi proviamo molto semplice no ho perso più tempo a spiegarvi la prima fase per chi volesse cimentarsi senza mettere questo comunque guardate ok vado ad andare su e giù piano piano tenete presente che poi si assestano quindi non chiudete mai i perni ve l'ho già detto cioè i perni chiedo scusa i gusci che poi vi potranno consentire di poter di nuovo svittare questi non li chiudete non li mettete li mettete alla fine e poi anche alla fine potete fare una modifica sotto ogni guscio dove c'è il perno che si incastra ma nello stesso tempo è semplice da tirare via ok se non uscite pazzi e poi li rompete guardate guardate qua chiaramente questo filo qui deve accoppiarsi bene provate a farlo e guardate un po il risultato non riesco neanche a muoverlo ecco qua provate a farlo ragazzi se vi è d'aiuto tenete presente che poi come appena detto queste guarnizioni devono trovare la loro sede quindi si schiacciano un po quindi dopo magari mezz'oretta o un'oretta e anche il giorno dopo andate a dare un altro giretto senza esagerare subito perché si devono schiacciare piano piano e vedete che si chiude tutto rimane così e se avevate il braccio molle il gomito molle state pur certi che questo qua fate fatica anche a piegarlo da voi ciao ragazzi buona giornata ciao